3 parole possono servire per farti sentire oltre gli orizzonti e le distanze 2 parole possono bastare per modificare l'aria generale di un discorso 2 parole non so già senti come calarite ti riscuccherò nel vuoto 2 parole che non ti ho mai detto forse ne ho rispetto delle scelte che tu hai fatto 3 parole non so già senti come calarite ti risccherò nel vuoto 3 parole non so già senti come calarite ti risccherò nel vuoto 3 parole non so già senti come calarite ti risccherò nel vuoto 3 parole non so già senti come calarite ti risccherò nel vuoto 3 parole non so già senti come calarite ti risccherò nel vuoto 3 parole non so già senti come calarite ti risccherò nel vuoto bins Ci risccherò nel vuoto 3 parole non lo so già senti come calarite ti risccherò nel vuoto Grazie a tutti